Salve a tutti ragazzi qui è il vostro Siriconota 2 e ci ritroviamo dopo la pausa natalizia in un nuovo video su Wallzone 2.0 Nel video di oggi ragazzi ho giocato con la classe Metra che vi ho già portato nei video precedenti ovvero l'LPK e la Fennec Quindi se non avete visto i video andateli a cercare per provare i settaggi matti del Siricone Nella partita d'oggi ragazzi vi porto una partita bellina dove abbiamo fightato abbastanza e siamo arrivati in endgame in 2 contro 4 Dopo che il mio amichetto è stato distrutto da un team da 2 persone sono rimasto solo in endgame e un nemico mi è volato letteralmente sulla testa col suo paragatute Ovviamente i passi non si sentono, il paragatute non si sente, ho visto l'ombra ma era troppo tardi e stavo anche ricaricando La partita finisce così, sono sfigato, la sfiga mi perseguita Raccomando ragazzi abbonatevi al canale e attivate le notifiche per non perdere mai i miei video Ci vediamo in un prossimo video Dai! Attività nemica confermata Abibi, assalamualaikum Abibi Abibi Di bric, di bric Come to Dubai Nemico nell'area Abibi, kill Non, 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 non Non ci parecchità. Ma dov'Sontano! Canti due ragazzi, ci sono un'esercitazione. Non è nemmeno di r guides Inti non ho visto che ci siamo riusciti innanima Audio audio audio! Franky! che cazzo vabbè? no iiii vabbè cazzo vabbè urli mongolo ma perché non sparano? sono qua eh sono a sinistra a sinistra sono torna alla base prima siamo sto facendo amicizia con loro ragazzi non puoi fare amicizia erano due team diversi erano no 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 quelle che parlano in arabo stiamo parlando io nel senso è per lui mi ha detto ma allora va bene però tu no muoio guarda che muoio ah ma tu parli arabo se se io sto per sempre si sono cresciuto a catania se mi sono parlato non vi avete dato tempo parlo per fare traduzione a voi che se ragazzi non sparate non pigliate le armi voi dobbiamo andarcela ma mai ragazzi quanto sto a decine ho oh ma sto bot del cazzo oh a fine mi stai arrivando questo qua stai arrivando questo qua non basta la finestra vada a terra a terra morto ti resta di nuovo fra se ce la fai si arriva è lì dentro craccato quello un altro in volo un altro craccato un altro craccato mi sparano che l'abbiamo uno da noi eh si arriva l'attacco con mortaio alleato qualcuno è entrato qua raga arriva l'attacco lancio di equipaggiare fatti due raga uno ha fatto raga uno ha fatto lancio il contratto vieni vieni non morire coprite ragazzi coprite fai anche a me anche a me fuori ho una macchina auto nemica marcata lì ce ne è uno lì ce ne è uno a terra a terra quello a terra quello Pasco mi devi aiutare arrivo arrivo sto arrivando sto arrivando fra ma ce ne stanno quanti sono non lo so io uno l'ho messo a terra una terra qua sopra raga il tuo si era arrestato vabbè l'ho fatta c'erano due ce ne erano due perchè io uno l'ho messo giù ed è arrivato un altro in macchina c'è un altro qua era in ginocchio si sta trascinando non so com'è eh l'ho fatto io da dietro ah io sono morto qua ce ne sta uno dove abbiamo preso le armi ora l'ho fatto io l'ho fatto io fra l'ho fatto io forse quella di sotto il gas è sempre più vicino avete da arrestarmi per cortesia avete il carrello lì dietro ora vado è una casa più ampia è la torre è la torre craccato là dietro bombardamento di precisione al riparo io sono una carica perforante percorso percorso faccio di mucci da questo coglione ok ok la team ha inventato ragazzi oh oh già da qua dove la mia ping io mi vado un po' di dietro ragazzi si vorrei un po' è lì eh hanno arrestato la oh ma no ma chi è stato ma di dove di dove fra non lo so sono arrestato di qua sopra di qua sopra di qua sopra di qua sopra vieni qua fra la zona sicura è molto distante non c'è tempo da perdere occhio 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 no ho fatto quella non ci posso credere giuro oh ma a me non mi conta le kill c'ho sempre a due kill c'è un carrello lì raga c'è un carrello lì a sinistra c'è gente pure però aia rimangono 24 nemici uccidili tutti hanno restato proprio là dobbiamo già mettere in safe eh raga mi sa che non vi possiamo restare c'è gente qua c'è gente qua c'è gente qua nemico in arrivo nell'area lì 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 nooo gas in arrivo c'è una nuova zona sicura eliminato c'è attività nemica c'è paracadute sento che ci entriamo dietro eh per questo me ne voglio andare per questo me ne voglio andare sento passi acqua pesce dall'altra parte secondo me del ponte sta andando avanti nell'acqua sicuro uno è sul palazzo guarda che si buttano bersaglio localizzato mano sul palazzo grande vieni friend è lì pasquale è mezzo alla strada no ce n'è due due sono tre sono in tre eh ma è immortale quello ultimi dieci non devi mollare ci rimani soltanto tu finisci il lavoro in un piano sotto di un piano qua dentro a sinistra ce ne son due qui 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 Sì, non è un gol, lo sopra ho sentito il paracaduto e ci sono volati sopra ora questo con la macchina non ci credo eh ma sono sopra sono, non si buttano questi vedi hai visto il paracaduto e ci li ho occhio vabbè non ci credo che sfida di madre eh l'ho visto ma non stava ricaricando abonno